buongiorno buongiorno un cazzo ma perché perché dagli affanculo si vuoi fare una sega levati mannaggia il culo di strada fattane ma il pennello vedi il cazzo mannaggia il senti nonna ha detto fai fa questo pennello si fai una sega ma il pennellino scusa ma fattane ma fatti fattane che stai tanto bene ecco lì con il carretto incredibile nonno fa fa danno i motori ore 11 meno 6 minuti occhiali aerodinamici incredibile sta per montare sta per accendere tutto pronto gomme a posto il cambio com'è e se se ne va se ne va incredibile girerà subito a destra un bel contromano e via e si parte che io voglio di tanto non da retta ormai lasci la macchina due giorni ecco sempre a un palmo le donne guidano dentro il cofano doppia mascherina sia maschio che femmina tante le volte non si sa mai parcheggio freno del parcheggio cioè frena a mano in piana e vabbè dai le donne che fanno si regalano un televisore che gli funziona più tanto bene è vero gli funziona oh eccolo già chiama c'è il televisore che non gli va bene che c'ha il televisore cambia canale per lavate la bocca scarafati lì beh se questo è il sapone di Marsia c'è acqua la bocca se no arriva il prete ello il prete ora arriva fai una benedizione rapida preventiva preventiva benedizione benedizione preventiva senti che profumo senti che profumo e te padre e te figlio e te spirito santo peccatoribus amm è sciato nooo la chiesa che fa davanti la chiesa se passa la moito franco si gioca la libertà si gioca è vero si si metta gli arresti domiciliari mi scappa più che giovanotti ragazzi no per carità vado davanti la chiesa mando il tecnico per riparare la televisione va bene manda perché ha detto che è in confuzione anche il cincilla un po' guarda il cincilla è morto ecco guarda è qui fermo ma se ce l'avevi detto vi la regalavamo per i compagni anni e già basta televisore cincilla è stata data l'estremozione a lei adesso lo chiamano il conte del tabless perché perché lui ha detto che la partita Italia-Inghilterra verrà ripetuta ah si si era scritto il tabless e allora ha detto ma io ho detto neanche a guardare una tavola di letto che hai guardato no ma tu che hai guardato smettere che stai in me ma tu che hai guardato che hai guardato ma tu che hai guardato che hai guardato che hai guardato che hai guardato a pensare ci si arriverà così in forma boh l'Inghilterra è bella però vabbè oggi la Carletto Life Car l'abbiamo lasciata a riposo ma per vedere tutti gli interni come sono stati realizzati per i più appassionati i più curiosi andate a vedere su Parisi Dakar ve lo taggo qua andate a vedere Mimmo guarda ho portato la maglia di sugo c'è questa macchina come si è ridotto no eccolo qua il mitico fa no fa no fa si vaffanculo no nonno sporchettato eh oh o no eh chi è che mangia tutta sta porchetta eh ora ti vedo ora vedo chi è che la mangia eh ora la vedo chi è che la mangia questa porchetta tu ehi ma tutta questa porchetta riporchettata con doppia porchetta la porchetta porchettosi che dieta è questa è la dieta proprio la dieta che mi piace da me di fare qual è quella che mi fa i cazzi miei oh anche più porchetta non è se dov'è ne trovi che dice si eh fa il furbo eh nonna marì nonna marì fa il furbo o no ah quel tipo la dica la dica la dica se mi viene su da fuori pioveva pioviscava tempo non ci vuole sto a vedere la televisione dal preambolo all'improvviso aspetta abbacca abbacca con lui abbassavo io l'abbassavo mettevo a vento all'improvviso mi vedevo di faccetto madonna mia ma che c'era mi cantante come sempre quello eh l'ho lasciata mi sta abbassata ma come l'ho abbassata non è l'abbaccia ma cambiava canale ma dico ma ma mi è mattito il telecomando non va più l'ho smorzata e la tenevo spenta all'improvviso ascesa e ora lì l'era l'accesa io non l'accesa lui eravano giù con le scalpe pian piano aperto la porta si era messa lì per terra dietro da me per terra tutto bello e lungo col telecomando il suo altro mi metteva mi metteva a guardare questa tua che pensavi che era? si era rotta la televisione si era rotta la televisione con il telecomando e chiuso andavo di là per prendere il telecomando con l'altro questa luce ha tornato a prima non mi darete quindi non mi raccordo c'era lui che stava bello e lungo e quindi o no quindi e quindi era da te c'è uno strumento ti rosegno l'untata e quindi o no dimmi quindi e poi io come gioco a pallavolo vero guarda come gioco a pallavolo guarda è un grosso grosso sei un grosso coglione no si guarda 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 basta che te levi guarda 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 c'è il bar sempre attivo qua ma soprattutto c'è guarda che c'è padre spio che da dietro ti controlla ti guarda spia guarda come spia guarda 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 ản schiappila schiappilo 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 schiapilo schiappilo aia 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 haha da fare via via scatenata stasera non ha marì no che tira quello tira più che stai fa che c'era fa con questo ma che c'era fa con il passino o no Dimmi che c'è da fa Mi dici che c'è da fa Che c'è da fa Guarda che stanno tutte dietro Tutte dietro a guardate Chiaro? Che fa? Che fa? Io non lo faccio Virgi Fermate mi strappà la maglietta Mi strappà Fermate che io La maglietta La terrazza A Misano Che ruba le magliette Che sono lì da Misano Che ruba la maglietta Che spettacolo Anche stasera al teatro La sdraia Al top Me lo guardo tutto stasera Altro che Temptation Island Beh Ma la guarda Temptation Island Sì come no Non c'è dormo la notte Perché fa? E' per vedere Temptation Island O no tu la guardi Temptation Island O no È un programma televisivo Si chiama Temptation Island Come? Temptation Island Temptation Island Ti guardo Che li ha Chi? Capito? E' il cerco piteco E che fa? Mangia le noci Quelle che sono Hai capito? Hai capito no? Chi le magna? Tu sta caccia del cerco piteco Chi è o no? Si può ammazzare Chi è o no? Nonno Gli altri conoscenti che mangia le noci? Che animale è? Che che mangia le noci? Che animale è? Eh caccia del cerco piteco Eh caccia del cerco piteco Eh caccia del cerco piteco Salutalo Ciao 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 Justin Salutami la tigre Saluta Justin Lui è Justin Salutalo Meglio Saluta la tigre Saluta Ciao ciao Jesse Meglio Meglio Niente Senti Oh Ma allora sei sorda Hai detto una bestemmia Sì ma allora È vero Caccia del cerco Come mai ce le asciugavano i pokemon? Eh? Come mai ce le asciugavano i pokemon? Eh? E ora che ce ne è? Vabbè è normale no? No no Certo 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 Eh ma questo da una vita sicuro Era il mio Ah se è fresco metti l'asciugavano i pokemon? Ce l'ho da una vita e butto via No no giusto Ma chi è che non si mette l'asciugavano i pokemon? Quando sai che prego? Eh quando erano fiese Eh No era il mio ma Vabbè Ti stai qua un'altra volta Ma guardate raga è incredibile oh Guardate padre spio come spia Tutti i cavoli guarda Padre spio Mannaggia il pesce Eh? La notte se fai le posacce con nonna Ti guarda Mannaggia il bambotto E sciatto dico io C'è padre spio di là che ti guarda? Ma che senno Sai che guarda? Mannaggia il bambotto No 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 stavo ora No vabbè ma così no Allora guardiamo i filmini Ma che? E vai Ma è il quattro Sì sì il quattro Ah allora il quattro Quel gran pezzo della Ubalda si chiama sto film Che si chiama? Quel gran pezzo dell'Ubalda C'è il quattro Il quattro è il numero Ma tu che sai guarda? Il quattro è Ale ha cambiato Ha cambiato Incredibile Vecchio valordo Vecchio valordo Ti piaceva la vecchia Ubalda Vecchiettino Vecchio valordo i coglioni Ma hai fatto questo Prima Sì Ma Sciacca di coglioni